O dolce Regina, di grazie ed amor, speranza divina del nostro dolor, Ave Maria, Ave Maria, su noi la materna tua man si posò, dell'ira superna le frecce spezzò, Ave Maria, Ave Maria, freme all'uragano gli abissi oscillò, ma quella tua mano ci indusse a sperar, Ave Maria, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o Dio vieni a salvarmi, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, o Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. A maggior gloria di Dio e ad onore della Beata Vergine Maria, recitiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Nel primo mistero contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Al sesto mese l'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Natret, a una Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Allora Maria disse, Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'Angelo si allontanò da lei. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica è il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto né l'alloggio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Simeone le benedisse e a Maria, sua madre, disse, Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri zebiti, come noi le rimettiamo ai nostri zebitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amico. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amico. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve Regina, Mater Misericordie, vita dolce, espes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, postoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore e pietà, Cristo pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del Cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre delle Grazie, prega per noi. Figlia prediletta del Padre, prega per noi. Gloria del tuo popolo Israele, prega per noi. Donna che hai creduto all'annunzio, prega per noi. Donna che hai accolto il Signore, prega per noi. Vergine del cuore umanissimo, prega per noi. Vergine ricolma dello Spirito, prega per noi. Vergine feconda come sposa, prega per noi. Vergine e Madre Purissima, prega per noi. Madre che hai portato il tuo Dio, prega per noi. Madre del Signore Gesù, prega per noi. Madre del Signore Crocifisso, prega per noi. Madre del Signore della Gloria, prega per noi. Tu sei la sorella di noi tutti, prega per noi. Tu sei la discepola di Cristo, prega per noi. Tu sei la maestra dei credenti, prega per noi. Tu sei la regina degli apostoli, prega per noi. Madre della Chiesa in preghiera, prega per noi. Madre della Chiesa in cammino, prega per noi. Madre della Chiesa che annuncia, prega per noi. Madre della Chiesa che soffre, prega per noi. Madre, ti preghiamo per il mondo Prega per noi Madre, ti preghiamo per la pace Prega per noi Madre, ti preghiamo per chi nasce Prega per noi Madre, ti preghiamo per chi muore Prega per noi Fiore della nuova creazione Prega per noi Raggio dell'eterno mattino Prega per noi Volto della gioia del Signore Prega per noi Festa della casa di Dio Prega per noi Madre, ti preghiamo per il mondo prega per noi madre ti preghiamo per l'Italia prega per noi madre ti preghiamo per la nostra Chiesa Deo Cesare prega per noi dona noi tutti la salute prega per noi agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci o Signore agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci o Signore agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi prega per noi Santa Madre di Dio affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo supplica alla Madonna delle Grazie fidenti e devoti veniamo a te o Madonna delle Grazie madre di Dio e madre degli uomini i nostri padri afflitti da tanti mali a te si rivolsero e ne furono soccorsi e consolati e se spaventano i terremoti e le pestilenze oggi più ci scomentano le potenze dell'inferno e le malizie di uomini che vogliono sedurre le anime con l'insidia dell'errore e pervertirle col fango della corruzione accorri ancora in nostro aiuto o Vergine potente conservaci viva la fede puri i cuori e poiché il vero male del mondo è il peccato ottienici il dono di detestare le nostre colpe e di non perdere mai più la grazia di Dio chiediamo infine alla tua grande bontà che non ci manchino la salute la casa il lavoro i frutti dei campi e i sacerdoti e che sempre ci sostenga la fiducia nella paterna provvidenza del Signore e nella tua materna protezione amén il Signore sia con voi con il tuo spirito per intercessione della Beata Vergine delle Grazie vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo amén benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio domani 5 aprile domenica delle palme qui in cattedrale a porte chiuse alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa preseduta dalla Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso Vescovo di Faenza Modigliana le celebrazioni liturgiche sono trasmesse in diretta da DTV sui canali 210 e 90 del Digitale Terrestre e sul canale YouTube Sinodo dei Giovani Faenza Gli affanni la peste ci afflisserondì ma un manto celeste faenza coprì Ave Maria Ave Maria Dall'aride cime al piano Giancor faenza ti esprime l'antico fervor Ave Maria Ave Maria Del nome tuo suona il nostro pregare a te madre buona ogni alma è un altar Ave Maria Ave Maria Degli uomini il pianto sacque dai tuoi piedi Degli angeli il canto Sine ebria di te Ave Maria Ave Maria Degli uomini il canto Degli uomini il canto Sine ebria Degli uomini il canto Degli uomini il canto